L'ultimo saluto, almeno per stasera, volevamo farvi sentire la nostra presenza, il nostro colore, sappiamo che ci avete visti, che ci avete sentiti e che la nostra voglia di vedervi tutti e tutte libere, è arrivato fino a voi, vogliamo salutare ancora una volta i nostri compagni e le nostre compagne che sono dei teroti qua dentro, vi chiediamo di portargli il nostro saluto, salutiamo Donato, Alex, Jacopo, Pierpaolo, Checco, Carlo, Cecca, Valeria, libera, Francesca, libera, un abbraccio solidale a tutti i detenuti e le detenute, ci vedremo presto, tenete duro! Tutti liberi, liberi, liberi subito, tutti liberi, liberi subito!